Buongiorno e benvenuti a Notizie Flash di Radio Puginioner. Vi aggiorniamo su un importante sviluppo giudiziario. Ripreso stamattina nel Tribunale di Tempio Pausania il processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e tre suoi amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Il processo si svolge a porte chiuse con Francesco Corsiglia che continua oggi la sua deposizione. Giulia Buongiorno, legale della presunta vittima, ha dichiarato che sono emerse novità e punti molto oscuri. Buongiorno ha espresso perplessità di riguardo il fatto che nonostante la gravità delle accuse non sia stata asporta denuncia contro la sua assistita. Ha inoltre sottolineato la presenza di elementi oscuri, senza però entrare nei dettagli. Francesco Corsiglia, unico imputato a deporre finora ammesso un rapporto sessuale con la ragazza, sostenendo però che fosse consenziente. Ha raccontato di un flerte iniziato durante il viaggio in taxi dalla discoteca Billionaire alla casa della famiglia Grillo a Porto Cervo, proseguito poi nella camera da letto e sotto la doccia. In contrasto, la presunta vittima ha descritto un'esperienza di violenza in piena regola. Secondo il suo racconto, sarebbe stata costretta ad un rapporto orale, strattonata sotto la doccia e abusata dagli altri tre ragazzi, che avrebbero anche filmato tutto con i loro smartphone. Il processo continua con le domande degli avvocati della parte civile Giulia Buongiorno e Dario Romano a Corsiglia, che sarà interrogato anche domani. Questo è tutto per oggi da Radio Puggino NER. Continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti su questo ed altri casi al prossimo episodio di Notizie Flash.